Pomeriggio trentino per il deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista a Trento, Rovereto e Riva per sostenere i candidati sindaco del suo partito. Silvia Santarelli. Noi siamo all'opposizione in Parlamento ma già governiamo in alcune città e per esempio a Pomezia un anno di sindaco Fabio Fucci al Movimento 5 Stelle e bilancio in attivo di 4 milioni di euro. Quando gli ho chiesto come ci sei riuscito non mi ha risposto semplice, non ho rubato. I grillini hanno ancora voglia di aprire come una scatola di tonno i consigli comunali, anche quello di Trento. Alessandro Di Battista è uno dei volti più noti del Movimento 5 Stelle ed è venuto nel profondo nord per sostenere il candidato sindaco Paolo Negroni ed interviene sul tema più caldo, l'autonomia. Di privilegi ne vedo ogni giorno nei confronti della classe politica, non credo che l'autonomia to court sia un privilegio. È un privilegio se ci sono delle regole che magari vengono violate o se ci sono ruberie. Il candidato sindaco ringraziando i suoi sostenitori per l'impegno nella campagna elettorale assicura non sono come gli altri, non sono un politico, da martedì torna a fare il mio lavoro, il tipografo.